Allora mister, una vittoria importante, tre punti in trasferta con un'altra pericolante come il Tolentino. Sì, aggiungo anche tre punti meritati. I ragazzi almeno oggi hanno raccolto i tre punti, sono contento soprattutto per loro perché fino a questo punto della stagione non abbiamo seminato ma abbiamo raccolto molto meno di quello che meritavamo. Oggi ancora una buona prestazione e per fortuna anche per merito sono arrivati tre punti che ci faranno lavorare sicuramente con più serenità questa settimana sapendo sempre qual è il nostro obiettivo che noi dovremmo con quella squadra attuale con i programmi di quest'anno che sono diversissimi lo scorso anno dovremmo lottare fino all'ultima giornata per la salvezza sapendo che al mercato di dicembre questa squadra avrà bisogno di nuovi giocatori, di essere integrata, completata con altri giocatori per se vogliamo lottare per la salvezza. Comista, nel primo tempo il rigore non realizzato poi l'inizio della ripesa sul piede dell'acceleratore la rete della vittoria. Sì, sì. I ragazzi non si sono buttati giù, anzi siamo rientrati ancora più carichi, cattivi nel secondo tempo. Ripeto, sono contento per loro e sono molto contento anche per i nostri tifosi che erano anche oggi molto numerosi che dalla prima giornata ci stanno seguendo in tantissimi che hanno capito che quest'anno è un anno completamente diverso dagli altri anni, ci sarà da soffrire, soffriremo tutti assieme. So benissimo che il 90% dei nostri tifosi lo sa, il 10% non lo sa, però giocheremo anche per quel 10% che tante volte parla a sproposito. Allora, mister Mattoni, bisogna fare le necessità a virtù, purtroppo gli assenti oggi in qualche maniera dovevano essere sostituiti ma alla fine il risultato non è stato favorevole al Tolentino. Al di là delle assenze, non è che chi è sceso in campo ha dato il massimo. Quello che mi preme dire è normale, sotto l'aspetto ai risultati è un'onta, è una vergogna che stiamo subendo tutti, sotto l'aspetto ai risultati. Ma come impegno, quello che mettono i ragazzi in campo non mi posso dire nulla. Quello che dico è che questa squadra si salverà. Lo dico adesso, è il momento peggiore nostro, questa squadra si salverà. Chiediamo scusa a tutti per quello che stiamo vivendo, ma noi lavoriamo affinché questo venga ribaltato. Il lavoro, io sono abituato a fare così, il lavoro ripaga. A fatica, non si sa quando, non si sa come, ma non ne veremo fuori. Ecco mister, dicevamo appunto la squadra, tutto sommato aveva retto nel primo tempo, peccato quel gol subito ad inizio ripresa. Poi tanta voglia, un paio di occasioni grosse, anche un dubbio, un fallo di mano in aria, ma alla fine il risultato è stato a favore degli ospiti. Nel primo tempo siamo stati un po' contratti, una partita anche loro, niente di al di là del rigore parato. Ci siamo abbassati un pochettino troppo il primo tempo, abbiamo aspettato la nostra metà campo senza rischiare più di tanto. Il secondo tempo eravamo partiti anche con una buona gamba. Poi l'episodio, ovviamente frutto di un errore nostro, è ripiombata nel baratro. Abbiamo messo tanto cuore, tanta voglia di venire fuori, ancora non ci riusciamo, ma come ti ripeto, io personalmente non mollo, non mollo di una virgola, poi io sono ovviamente a disposizione delle scelte societarie, ma io non mollo assolutamente nulla, perché nonostante le assenze, nonostante un periodo che poi io non mi sono mai lamentato, non ho mai creato alibi e non lo farò neanche oggi, non ne veremo fuori. Grazie per la visione!